Piazza Malatesta, anche nell'ultima area di cantiera antistante Palazzo Pelliccioni, sarà pedonale. Dal comune arriva oggi la conferma della scelta, che prevede che l'area possa essere accessibile ai residenti e ai veicoli autorizzati con un senso unico in direzione via Poletti via Bastione Occidentali, consentito, in base alla cartellonistica, anche il carico scarico per 20 minuti, oltre all'accesso dei mezzi di sicurezza. Definitivamente accantonata, l'ipotesi inizialmente prevista di consentire l'accesso anche ai non residenti, quantomeno in alcune fasce orarie. Confermata invece la decisione di vietare la svolta a destra su Piazza Malatesta a chi proviene da via Bonsi. I lavori, informa l'amministrazione, sono in fase di completamento e sono l'ultimo atto della riqualificazione della piazza, spazio urbano di oltre 11.000 metri, con verde e installazioni dal sapore felliniano, che connette gli altri due assi del Museo Fellini, il Palazzo Valloni e Castelsismondo.